Mi è capitata per le mani questa bottiglia di Vinsanto di Montepulciano della tenuta Tre Rose e devo decidere cosa farci. Ma un'idea me la son fatta. Intanto vi racconto due cose di questa tenuta. Sorge nei colli sienesi, in piena area del vino nobile di Montepulciano. Si estende su cinque colli in un paesaggio da sogno, con al centro una prestigiosa villa risalente al 1521. Ma torniamo al Vinsanto. Sapete perché si chiama così? Era il XIV secolo e la peste si diffondeva per la penisola italica. Qui si narra che un frate francescano, per alleviare le pene dei moribondi senesi, somministrava del vino utilizzato per la messa e, visto le reazioni positive dei malati, nacque la credenza che il vino fosse miracoloso, soprannominandolo Vinsanto. Questo è un vino d'hoc prodotto da uve Malvasia al 70% e Trebbiano al 30%. Le uve sono stese su dei grattici e da passire per circa quattro mesi. Dopo la prestatura il mosto fermenta in calatelli, che sono delle piccole botti da 100 litri, vengono sigillati con la ceralacca e ci resta per almeno sette anni. Incredibilmente intenso e ha ampie note fruttate di fico e bicocca. Qui si fanno avanti anche le note di prugna e frutta secca. È avvolgente, è accattivante. Il finale è veramente lungo e vellutato, però manca qualcosina. Qui ci starebbero bene dei cantucci toscani, che ovviamente ho qui con me. Burro, miele, uova e le immancabili mandorle intere, che per disciplinare, anche i cantucci hanno un disciplinare, devono essere almeno per il 20%. E pensate che è il terzo biscotto più conosciuto al mondo. Un orgoglio del Made in Italy, che già nel 1867 i cantucci vennero portati all'esposizione universale di Parigi, dove ottennero uno speciale riconoscimento. Sapete qual è il loro destino? Intinti proprio nel Vincanto. Fenomenali. Alla prossima. Grazie. 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 Grazie.